potrei quasi cantare è giunta mezzanotte si spengono i rumori si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè porca vacca presto che tardi le di ghost e le di sadako salutano tardissimo universo grazie che è mercoledì e non devo pensare all'argomento da trattare perché per fortuna ogni tanto qualche idea geniale mi viene al mercoledì faccio il mercoledì interattivo con le risposte alle vostre domande e quindi bene o male almeno non mi devo scervellare per pensare a un argomento dunque stasera la facciamo un po' più spiccia e sto accendendo il palosante perché non l'avevo ancora nemmeno passato e io invece qua lo passo sempre non mi siedo e mentre questo sfumazza per conto suo oggi la faccio un po' più stretta vi do comunque il tempo di pensare alla domanda ma a breve un po' senza tergiversare troppo se ci riesco perché è veramente tardi dunque mercoledì interattivo con il mega librone magico degli oracoli delle streghe lucenti scritto da silvia di menna sotto dettatura della sua guida euridice vi lascio un po' di tempo per pensare a una domanda un consiglio che vorreste in questo periodo e di scegliere un numero compreso tra 1 e 5 quindi o l'1 e il 2 o il 3 o il 4 e il 5 dopodiché appunto vi lascio un po' di tempo per scegliere bene domanda e risposta che sarà la vostra mi sono spagasciata una spalla da ieri senza motivo e poi vi dico le risposte interattive che saranno le vostre grazie a lui perché altrimenti io normalmente non faccio veggenze ma grazie al libro degli oracoli delle streghe lucenti riesco a fare anche questo tipo di video che aiutano in qualche modo le persone danno una mano e fanno piacere visto che comunque tanto è seguita anche questa rubrica mentre vi lascio il tempo mi faccio la mia domandina solita e la mia domanda è se ancora per questo mese andrà in porto una determinata situazione finanziaria in che modo più che altro andrà in porto o non andrà in porto opla apro il libro ci sarà un miglioramento molto presto cerca di stare sereno e medita senza perdere la concentrazione ecco la risposta direi che è positiva speriamo 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 che sia ciò che sia stavo elaborando dei talismani con le pelli di serpente e con le mute di serpente veramente queste sono mute di serpente di pitone albino e di serpente non albino ma tanto che vi lascio il tempo il mio giretto con le mie perché devo dire che sono le mie perché sennò Adam si arrabbia con le carte con le mie carte del destino create però da Adam Green devo cogliere il tempo del mercoledì sera per farmi anche un giretto con queste perché come chi segue i miei mercoledì interattivi lo sa o chi conosce le carte del destino create da Adam Green sa che questo tipo di carte devono essere dedicate o solo per questioni personali di se stessi o solo per gli altri e io le ho dedicate a moi perché io non faccio normalmente vegenze agli altri lo sanno tutti quelli che mi seguono e se qualcuno incappasse di qua per puro caso sapevatelo allora alle carte di Adam alle mie carte voglio chiedere invece come dovrò muovermi per alcune questioni grosse in questa settimana cioè tra questa e la prossima a venire in questi sette giorni a venire mettiamola così le mie domande sono sempre molto secche e preferisco la risposta con tre carte ma si posso fare anche con cinque con sette a seconda dei casi in che modo mi devo muovere questa settimana ora come al solito ve le faccio vedere le ho messe così e le vado a girare tornato ottimo divertimento positive sono positive tornato mi fa venire in mente a un progetto che in effetti stava tornando in mano proprio in questi giorni quindi forse il fatto che sia tornato che io sia tornata in qualche modo a occuparmene sembrerebbe essere ottimo quindi una cosa positiva quindi dovrei continuare a prendere questo tipo a seguire questo tipo di progetto che sto seguendo proprio in questi in questi giorni qua divertimento posso interpretarlo anche come gioia come felicità quindi comunque come una cosa che porta a dei riscontri positivi direi che sono abbastanza chiare anche questa volta ma loro sono sempre chiare difficilmente non lo sono comunque tanto se poi Adam vede il video nel dubbio mi corregge io ci spero sempre che mi corregga perché più lui mi corregge più io capisco il senso delle cose oh là me le devo mettere in ordine perché io sono precisa con le mie cose e le voglio ordinate metto via tutto bello preciso messo via bene e riprendo ah rimetto a posto anche le mie pelli di serpente perché stavano a metà strada riprendo il librone e vi faccio l'interattivo presto che è tardi stasera il video sarà un po' più breve ma è veramente tardissimo e sto anche abbastanza incasinata io ancora con determinate cose da terminare io ci faccio le carezzine al libro prima di aprirlo per chi ha scelto la risposta numero uno la tua mente stanca avrebbe bisogno di riposo aiutati con delle meditazioni e stando all'aria aperta meglio con i tanti pensieri li allontaniamo da tutto tra l'altro ho notato che quando abbiamo dei problemi cerchiamo a tutti i costi una soluzione non la troviamo appena proviamo a mollare un attimo e dire basta adesso voglio pensare ad altro non voglio pensare a niente tac arriva l'illuminazione la lampadina che si accende risposta numero due no 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 mi dispiace ma questa è la risposta un no secco perché ha scelto il numero due tre la risposta è no ma sarà per te un bene in futuro non stai perdendo nulla stasera una collezione di no esce fuori risposta numero quattro mi sono usciti ringraziamenti in questo caso basati sui fatti chiedi maggiori sicurezze e non fidarti delle sole parole praticamente indaga di più ultima risposta numero cinque se veramente lo vuoi avrai gli appoggi giusti osa prova vai queste sono le risposte degli oracoli delle streghe lucenti per questa sera io continuo ad avere la spalla scasciata ma questo da un momento all'altro ma io non lo so questa spalla qua era l'unica buona perché l'altra è scassata da anni ieri ero qua al pc che stavo stavo giocando non stavo neanche facendo lavori o cose strane stavo giocando a designville un giochino di facebook per staccare un attimo la testa dallo stress dalla pesantezza di questi giorni pieni di impegni a un certo punto ha cominciato a farmi male ma un male interno tipo osseo tipo reumatismo che è facile che lo sia tra parentesi poi sono andata a dormire stanotte non sapevo come metterlo mi continuava a fare male un dolore mai avuto a questo braccio poi io mai avuto niente questo l'ho scassato in un incidente in moto montando un letto a tutti i modi è tutto scassato ma questo non ci ho mai fatto niente stamattina mi sono alzata il dolore era ancora più forte ho preso un howling e stasera ho dovuto riprendere un howling perché mi faceva male ma proprio qua sopra ma dentro l'osso proprio sullo spigolo della spalla che ci ho fatto non lo so ma da un momento all'altro ero ferma così e ha cominciato il dolore non è che mi sono mossa mi sono strasciata ho fatto qualche movimento niente così ma eppure boh speriamo che possa Lady Ghost e Lady Sadako risaluta non lo so stasera sono stata di poca compagnia ma come vi ho detto purtroppo è tardi avrei dovuto finire certi impegni gravosi entro ieri e invece sono ancora inceppata sul finir di alcune questioni doverose per cui avrò ancora un paio di giorni di 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 latitanza e di corse campestri per riuscire a portare a termine tutto ma la determinazione porta al successo e ce la posso farcela io vi risaluto ricordandovi che qua sotto ci sono tutti i link dei vari social sul web dove mi trovate un po' più sotto tre o quattro delle invece mille mila librerie che tengono in vendita i miei libri ad oggi sempre i soliti sette tra i quali il più conosciuto Amazon Libri Streetlib Totem Ips Feltrinelli Mondadori Libreria Universitaria e quant'altro sia all'estero e sia in Italia lo sottolineo perché tanti mi chiedono ma all'estero arriva? Sì soprattutto con Amazon problemi in ce ne sono ma anche con Ebay perché anche Ebay spedisce all'estero e li trovate anche su Ebay potete anche cercarli direttamente su Google scrivendo Sveva Molinaro Libri e appaiono tutti e vedete anche le copertine se andate sulle immagini detto questo ciao